Di canzone in canzone, di casello in stazione, abbiamo fatto giornata che era tutta da fare. Un'immagine che mi piomba davanti pensando a Buonanotte all'Italia è Pantani, perché lui comunque rappresentava la fatica, il farcela nelle salite più difficili, più ripide e quando è scomparso un colpo duro, non era un mio mito, non era un mio idolo, lo seguivo come penso facesse tutta Italia, però mi ha fatto molto riflettere questa sua solitudine, questo suo non avercela fatta contro la vita.